Cosenza e Rende Ed eccoci arrivati all'appuntamento di questa sera con la Spaghetteria Dato che siamo qua al laboratorio del MIAI Che sta per Museo Interattivo di Archeologia Informatica E non per MIAI rotto il cazzo Anche se si potrebbe affermare questa cosa E dato che il laboratorio è un macello Perché stiamo lavorando su diverse cose Aggiungeremo dell'entropia Tentando una riparazione, se necessario Di questo meraviglioso TV Seleco Una meraviglia Una meraviglia pesantissima Modello SP-170 Delle Industrie Zanussi Seleco Inventario numero 715 Qui al Museo dell'Informatica Funzionante di Rende Cosenza Che non è il Museo dell'Informatica Funzionante Ma come dicevo è il MIAI MIAI Musif EU E questi siamo noi Siamo noi i due musei in un museo Perché siamo una cosa unica Una cosa bella E quindi ora noi Potremmo Attraverso questa riflessione Salutarvi con l'altra mano E Spingervi a diventare membri di questo canale Diventate dei Membri Trovate Un Bottoncino sotto qui Su come si fa E potrete anche Fare una donazione con un super Come si chiama? Un super grazie Un super thanks Che io chiamerò super disgrazie Ma a parte questo Io direi proviamolo così com'è E vediamo se si accende Perché io ho l'impressione che questa cosa si accenda Dopodiché lo metteremo in sicurezza E' vero? Vero Situazione generale Il TV è integro ma sporco Come vedete è sporco Le antenne sono sane Sono un po' bloccate Con una mano È un po' complicato Però sono uscite Come vedete Eccole qua Qui c'è il connettore per un'antenna Dalla forma bizzarra Che è stata Manglata in qualche modo Ma noi la ficchiamo lo stesso Ed ecco qua L'iconica antenna Dei TV anni 70 Che bella Qui abbiamo due connettori Per i due tipi di antenne UHF e VHF Interni Che immagino questa sia quella di qua E questa sia quella di là Ma me ne sbatto ancora Qui abbiamo un cazzetto mancante Un tondino color feci Questo coso Non entra Non sta E questi tasti tendono a scoppolare Molto facilmente E quindi questa è l'accensione Qua abbiamo dei Rotatori Vediamo questi Rotatori Dal lato giusto Ecco qua Che immagino sia Volume Luminosità E contrasto Sapete cosa vi dico? Io lo provo direttamente Perché Bisogna che noi Otteniamo del fumo magico Acceso 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 ma non è successo niente Questo coso è morto Perché? Forse la spina? Vediamo Ficchiamola con violenza Test professionale Come potete vedere Ok Questo oggetto Rasenta la morte Vediamo se per caso Dietro ha qualche Switch Per Andare Che ne so A 12 volt Ma pare di no Non ci resta che Sventrarlo Eh già Spostiamo le armi I nostri Nerf gun E verifichiamo C'è un rumore di fondo Che proviene da queste bocche Vero? Sori Ti è caduto un oggetto E quindi avremo del rumore di fondo Caffè freddo di ieri Come avrete intuito Qui ci sono attività in corso Quel che è una cosa molto bella Ma bando alle ciance Rimettiamo questo Lì Questo via dal cazzo E cerchiamo di capire Qui sotto Cosa possiamo mettere? Dobbiamo mettere qualcosa Per proteggere lo schermo Questo caffè verrà rovesciato Presto E quindi metteremo Della stoffa Ho giusto trovato Della stoffa E la metterò qui In modo da proteggere Lo schermo Dai graffi Così possiamo fare questo E qui vedo viti Qui vedo viti Allora questo è rotto Questo Lo svitiamo La vedo male La vedo male smontare questo tv Infatti ecco una vite Che non si svita Ci voleva la persuasione Delle bestemme interiori Ah ma vedo altre viti Nascoste qua E sicuramente di sotto Nella parte sotteriore No Invece no Nonsense Quindi ora In teoria Se io allargo qua Uh che meraviglia Guardate Fantastico Fantastico Wow che audio pazzesco Sentite che audio pazzesco Il rimbombo Ok E questo lo dobbiamo mettere In un posto dove Dove non si sfascia TV sporco Guardate Mmm che meraviglia Altre due viti E adesso si alzerà Ma neanche per il cazzo Invece sì Ma qua c'è un macello di viti Io prevedo tragedie Tragedie gravi Per aprire questo oggetto Sarà Sarà una tragedia Ecco Vaffanculo Di sicuro dobbiamo togliere questi Questo è facile Questo anche E questo anche E' uscita una linguetta metallica Perché questi cosi dentro Hanno Una linguetta metallica Per fare pressione Quindi attenzione A non perdere La linguetta metallica Qui dentro Che voi non vedrete mai Io sono già fuori In quadratura Oh oh Si è aperto Però adesso qua abbiamo Cadi A non finire connessi Connessi a Connessi a dei connettori Che Dobbiamo necessariamente Sganciare Connettori a cui farò una foto Non si fa a fare la foto Di stu cazzi di coso Poi abbiamo una messa a terra Ecco Poi abbiamo un altro connettore Qua Ora Di agrosgan c'è di dubbio Ovviamente no Che cazzo c'è Che cazzo c'è Ecco cosa c'è Una bastarda fascetta Bastarda Una bastarda fascetta Maledetto Chi usa le fascette Ma poi Questa non è nemmeno Una fascetta E' una di quelle del pane Maledetto Chi l'ha messa Mando cazzo Va sto pavo Madonna Va in culo Proprio No ma è impossibile Dobbiamo tirare via Anche questo Già mi sta rompendo Il cazzo Già sto coso Mi sta rompendo Il cazzo Questo non esce Ma come cazzo E' fatta Sto coso Allora Questi li devo riavvitare Perché se no Mi deformano tutto Che cazzata Allora Io speravo Che fosse come I televisori Della ex DDR Fatti per essere riparati Quindi con una Con una cerniera Che permettesse Di abbattere il circuito Ma ovviamente Questo non esiste In Italia A meno che non sia qua dietro Lo scopriremo Con dolore Infatti non c'è nessuna cerniera E siccome questi Non escono Bisogna svitare tutta la staffa Che regge la scheda Pensa tu Minchia Mi hai fatto finire un colpo Dio Porco 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 40 milioni di viti Ok Ora abbiamo connettori A cazzo In giro Porco Filina Cazzo Ovunque Ok Questo non viene via Ma dobbiamo convincere E lo convinciamo No ma questo è un troiaio Non è un tv Allora vedo parte di Trasformatore spaccato Il che non depone bene Poi Vedo un altro connettore qua Che vado a Fotografare Poi questo Ancora fascette Ancora fascette Ma porco Tardo Qualcuno ci ha messo le mani qua Ha messo queste fascette del pane Questo filo Ovviamente Ma certo Perché è logico Si mettono tutti i connettori Però quello di accensione Cosa si fa? Si salda Sulla scheda In modo da non poterlo togliere Devono darti l'illusione Di poterla aprire Ma è solo un'illusione Ora questa è una cagata Fissata con il nastro isolante Evidentemente da qualcuno Da qualche mentecatto Che ha messo mani su questo circuito E ora identifichiamo Questo connettore Anche se i colori sono gli stessi Quindi in effetti non c'è bisogno Foto E Li stacchiamo Abbiamo raddrizzatore al selenio Condensatori di vario tipo Segnati con un puntino rosso Quindi veramente qualcuno qui Ha fatto delle misure E ha fatto delle cose Cosa accade? 40 BD142 come Transistorone Questo lo stacchiamo pure Ecco E adesso abbiamo Un connettore verde qui Che fotografo Altro filo saldato Ma ora di saldato abbiamo solo esso Non mi sembra che questo tv abbia lavorato molto Comunque Porco di... Ed ecco il troiaio Nella sua interesse Allora Questo non è rotto È proprio È proprio fatto male È proprio fatto così Con questa cosa schifosa Quindi è fatto così Ora io percepisco Condensatore che vuole assolutamente Essere cambiato al volo Un troiaio proprio Anche questo sicuramente Questo qua vuole sicuramente Essere cambiato al volo Anche questi due Probabilmente Questo Questi sembrano già più recenti Hanno colore rosso Probabilmente sono stati testati Chissà Rosso Potrebbe voler dire Da cambiare Ma Sono i TT Cerchiamo di capire cosa fare E come farlo Allora Io tolgo Il pulsante di accensione Da qua Così Per E ecco Bene Io Già sento Dei meravigliosi rumori Arrivare Dall'altra sala Viti Viti a mai finire Ho levato dal cazzo Un produttore di accensione Vediamo un docazzo Vado Madonna Il macello Ora vorrei evitare Di spaccare il cinescopio A calci Guardate che Troiaio Che hanno fatto Se prima mi piacevano i seleco Poi ne sto improvvisamente Provando Un discreto schifo Ma che cazzo hanno fatto qua Che cazzo hanno fatto Con sti passacavi Che cazzo hanno fatto Ma l'ho detto No Ma è pazzesco Ma guardate che cazzata Guardate Io mi scasso una mano Io già lo so Ok lo scopo è liberare Questo cavo E poter buttare Questa Troiata Alimentazione Vaffanculo Vaffanculo D***o Sto facendo una fatica D***o D***o Ora sicuramente Questi fili si staccheranno Io farò le foto Di dove vanno Questo è preoccupante Ovviamente Questo sicuramente Fallirà Fallirà immediatamente Dubito Io dubito molto Allora Una serie di prime analisi È un troiaio Questo sistema È una vacata Cagata pazzesca Una cagata Mostruosa Questa è quella Che si chiama in gergo Cagata Tester Qui abbiamo Attrezzatura Abbastanza seria Come potete vedere Infusibile E buono Così sembra Ma noi lo distacchiamo Per provarlo Bene E l'abbiamo perso Per sempre Lo sapevo Io lo sapevo Un c***o Il fusibile È buono Il fusibile È buono Lui non si accende Quindi Cosa sarà Eh Mi serve lo schema elettrico Miei cari La situazione si fa atroce Perché Non trovo Uno schema adeguato Trovo solo Questo Che però Non è ingrandibile Quindi Non si legge un c***o È microscopico È una foto Fatta male Una scansione malata Quindi Quindi non so Io proverò A dare un'occhiata Alla situazione Su questo schema Che ho Adesso chiederò Anche informazioni Su un forum Facebook Di amici riparatori Di queste tv È molto bello Perché ha il Cinescopio A 110 gradi Come vedete È molto sottile Come cinescopio Ed è una cosa Veramente pazzesca Credo sia del 1980 Ma non ne sono sicuro Vediamo se Se si vede Su qualche chip Una forma di data 78 Qui leggo 7801 E quindi Io lo daterei 1978 In base a questo chip Altre date Non ne vedo BD142 Questo potrebbe in realtà Servire Al trasformatore Che è lineare Sembrerebbe Ma non vedo Altro In giro Ci sono Transistor Dalla forma divertente Come questo qui O questo Molti componenti In una forma divertente Questo addirittura È un date code Del 74 Ma quello più tardo È del 78 Quindi io Arriberei al 78 Potremmo essere comunque Al 1980 BS S201 Trattino 4 Ecco il Nostro numero di telaio E questo è il BU 109 Che pare essere Un transistorone PNP Raddrizzatore al selenio Che sicuramente esploderà Facendo una puzza del diavolo Abbiamo condensatori E oggetti Di vario tipo Ho deciso di Rissaldare questi In modo da Separare le parti E avere la scheda Davanti a me E ho scoperto L'orribiltà Transistor Bruciato Sì vabbè Transistor Che cazzo dico Porco Fusibile bruciato Con pezzo di filo Saldato E a sua volta Bruciato pure lui Una cosa che vi ho già spiegato In un mio precedente video Che non si deve fare mai Quindi E' saltato un fusibile Qualche super genio Lo ha ponticellato Con un pezzo di filo Vedete E Questo fusibile E' buono Perché il pezzo di filo Non è bruciato Ma sicuramente Avrà fottuto altre cose Qua dentro La genialità E qua vedo Vedo delle cose strane Cosa sono questi oggetti? Sono Ah Sono delle induttanze Ok La rimettiamo lì dove era Vai a fare in culo Ecco Quindi qualche super genio Ponticellato E' questo fusibile Secondo me Ha fottuto Qualche altra cosa Ho chiesto un minimo di aiuto qui Ma nel frattempo Per non saperne leggere Né scrivere Ho rifatto un paio di saldature Ho verificato che qualcuno Qui ci ha messo le mani C'era un ponte raddrizzatore Saldato in modo Veramente fecale Allora l'ho estratto L'ho testato L'ho rimontato Ho verificato qui L'interruttore di accensione Che funziona E ho ottenuto questo risultato Vediamo se si riproduce Che io ficco la spina Poi corro di qua E guardate cosa succede Che non succede un cazzo Succede più un cazzo Allora è un falso contatto Sulla ciabatta Allora mi prende per il culo Vediamo qua Niente La morte Io attendo Attendo impaziente Ma niente da fare Allora è veramente lui Non lo fa più Ma perché 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 Dio mi fa questo Io poco fa ho avuto un puntino Un puntino luminoso C'è evidentemente Un falso contatto Da qualche parte E io bestemmio Ecco ora Ho avuto un lampo Sulla lampada lì Non so perché Perché la lampada Ha fatto questo lampo C'è qualcosa che non va Secondo me E' questo il problema Perché quando Accendo qua Succede un cazzo Vedete Non succede un cazzo Allora com'è che mi si è acceso poco fa Per quale motivo mi si è acceso Odio Odio cosmico Forse devo ricoprirlo di sputi Infatti vedete il porco Quindi il problema è questo Quindi il problema è questo Porco Il produttore del Porco Porco Questo pirlo di merda Si muove grazie a queste molle Messe in antitesi come se fossero Dei Degli orecchini appesi a uno scroto E permettono la chiusura e l'apertura di questo contatto Cosa che prima non avveniva Ora che però Ho eiaculato una abbondante quantità di vd40 Adesso Questa cosa accade Chiuso Aperto E lasciamo chiuso E colleghiamo di nuovo La cazzo di spina E vediamo che succede Ecco Acceso Ecco il puntino Vedete Ma questo è il male Quindi spengo Perché Perché Ho tutto scollegato Quindi stanno avvenendo cose Che non devono avvenire Quindi ora io Ricollego I vari connettori Vediamo che cosa succede Comunque è un buon segno Ho ricollegato tutto Spero nel modo giusto Anche se volante Per capire Se ciò che otteniamo ha un senso Però vedo del problema Questa massa Andrebbe collegata qui Perché se no se ne va in giro Deveva fare dei cortocircuiti Pazzeschi Questo lo ficchiamo qua Che se stesse fermo Sarebbe una buona cosa Bello che c'è scritto Che basta togliere il vetro E si fa il service In modo super semplice Ma qua bisogna sventrare tutto Altro che servicing semplice Ok L'interruttore è qua Tra le viti Ebbene Vediamo cosa succede ora Dovrebbe partire l'audio In qualche modo Esatto Lui si è acceso Sì È un po' da regolare Probabilmente Eh sì qua Adesso è tutto da regolare Abbiamo questo problema Chissà se è un problema Di regolazioni Di condensatori o altro Però funziona Allora Allora Grazie a tutti